E' ricercatrice indipendente nel campo della spiritualità e della crescita personale, appassionata di metodi per edupare la mente e trasnotare il dialogo interiore. Ha frequentato diverse scuole per apprendere la meditazione e la guarigione esoterica, approfondendo gli studi tra gli altri con la guaritrice spirituale Uberta Favre e il ricercatore e scrittore Francesco Baritto. Ha sempre mantenuto uno spirito critico autonomo, rielaborando e adattando alla vita pratica quanto ha preso. Considera l'intuizione come la risorsa più significativa per contattare i mondi dell'invisibile e trarre da essi ispirazione e visione. E' caporedatrice di Anima TV, blogger ed esperta di comunicazioni. Ha scritto A.A.A.A. Cerca Figuro disperatamente. Come salvarsi l'anima, i portafogli e le motande. Manuale pratico di sopravvivenza spirituale. Grazie Leslie, bravissima. Questo è un libro, ci tengo a dirlo, perché è la prima cosa che mi dicono molte volte. Ah, ma è un libro contro i guru. No, non è un libro contro i guru. È un libro a favore di una ricerca spirituale che sia aperta, indipendente e che non finisca invece nella dipendenza da una filosofia, da un guru. Quindi non andiamo contro un guru, andiamo a favore di una ricerca, di un'anteriorità che è bene che rimanga, forse suona un po' strano dirlo, piena di dubbi e senza risposta. Perché io ho visto che quello che molte volte fa cadere nelle mani di certi guru, oppure a volte non è neanche colpa di certi maestri o filosofie, sono proprio le persone che prendono e venerano queste filosofie o questi guru, è l'assoluta incapacità di stare con la non risposta. Cioè c'è l'ansia di avere assolutamente una risposta sull'assoluto, l'ansia di sapere qual è la verità assoluta e quindi in funzione di quest'ansia ci andiamo a mettere nelle mani di chi sembra rappresentare quella risposta. Allora secondo me il primo passo per rimanere magari nella ricerca, nella passione e non nella dipendenza è anche accettare che le risposte potrebbero non arrivare, perché comunque la vita è mistero, comunque a volte più ricerchi, più indaghi, più approfondisci e non solo non trovi le risposte, ma ti aumentano pure le domande, quindi va benissimo la ricerca perché poi l'esperienza ha il suo significato, però a un certo punto dobbiamo anche mollare il fatto o l'illusione di credere che esista una risposta assoluta, magari arriverà più avanti, però un conto è avere bisogno di quella risposta e se io ho bisogno, magari c'è pure qualcuno che fa leva su questo bisogno, un conto è dire va bene, io sono curioso, io ricerco, ben venga, però non mi avvicino a questa ricerca con un bisogno, ma con una curiosità e imparo a danzare anche con questa incertezza e con questo mistero. Quindi è un libro che ha delle componenti ovviamente spirituali e di buon senso che lo caratterizzano per la maggior parte. Nell'intervento di adesso tuttavia, mi rifaccio a una parte del libro che è marginale, però c'è, che si riferisce, si rivolge diciamo non a coloro che sono alla ricerca dei guru, ma a coloro che viceversa sono alla ricerca di seguaci, cioè a chi desidera diventare guru. Quindi ho pensato in questo momento di fare una specie di corso accelerato per diventare guru, prendendo ispirazione da una sezione che ho inserito nella quale dico va bene, ma chi siamo noi? Cioè va bene che abbiamo capito che forse non servano più di tanto questi super maestri che ci danno tutte le risposte. Dico però chi siamo noi per impedire a chi è fermamente convinto e desideroso di diventare guru, di percorrere quella strada, quindi gli diamo una mano, anche perché sono 20-30 anni che ho osservato con spirito giornalistico, guru di tutti i tipi e quindi ho messo a punto una specie di bignami, mettiamola così. Iniziamo dalla sezione ritualità e apparenze. Quando apri una conferenza, non dire buonasera, grazie per essere qui, ma usa espressioni del tipo Namaste, il grande spirito è con noi, Om Shanti, i maestri ci benedicono. Cioè l'apertura di una conferenza è fondamentale. Come vestirsi? Indossa qualcosa di particolare che ti contraddistingua da un banale mortale. Può andare bene una tunica, uno scialle indiano, una qualche veste inusuale. Bianco e colori chiari vanno sempre bene, ma anche il nero può essere opportuno. Dipende se vuoi presentarti più come qualcuno che ispira fiducia o come un mago che padroneggia l'occulto. Se vuoi dare l'idea di essere vicino al mondo sciamanico, puoi optare per colori più accesi e variegati. L'importante è che ciò che indossi non passi inosservato. Per quanto riguarda gli accessori, hai l'imbarazzo della scelta, medaglioni, anelli di una qualche foggia particolari, bracciali, pietre e così via. Non disdegnare oggetti che richiamino arcane sapienze, un libro misterioso dalle pagine ingiallite, un bastone antico, un cristallo a forma di piramide e così via. Siamo ancora nella sezione apparenze. La gestualità, altro punto importante. Usa la gestualità in modo opportuno. Ogni tanto con le mani traccia dei simboli in aria o fai dei movimenti come a voler cacciare fastidiose entità negative o inviare benedizioni. In ogni caso, all'inizio di ogni incontro, fai gesti vistosi e spiega che stai attivando una protezione energetica o che stai aprendo un portale extradimensionale attraverso il quale comunicare con i maestri o le guide. A fine incontro, non dare banali strette di mano, congedi le persone unendo le mani a preghiera, portandole prima all'altezza degli occhi, del petto o inchinando leggermente il capo in avanti. Giustamente, se uno ti avvicina ti vuole dare la mano. Oppure scegli, va bene, altri gesti rituali, basta che siano fuori dall'ordinario. Sezione atteggiamenti e allusioni. Ogni volta che parli, scandisci le parole lentamente. Usa termini aulici e mantieni il tono della voce basso e profondo. Fai delle pause per sottolineare la presunta profondità di quello che stai affermando. Tra un discorso e l'altro, fai intendere che vicino a te c'è un angelo o una guida invisibile. O un maestro illuminato che ti sta suggerendo importanti rivelazioni. E ricorda che tu sei un umile canale al servizio di questi esseri superiori, che naturalmente comunicano solo con te. Punto numero 7. Ah sì, leggo anche questo. Di tanto in tanto, cogli di sorpresa il tuo interlocutore con uno sguardo sfocato, diretto al di là delle sue spalle. Fai intendere che c'è qualcosa che stai vedendo. Per esempio, una qualche perturbazione nella sua aura. Sezione usare le insicurezze degli altri. Perché poi si inizia con cose semplici e poi bisogna diventare esperti anche in situazioni più intense. Se qualcuno si mostra preoccupato perché non sa come risolvere i suoi problemi, spiegagli che gli ostacoli che incontra sono generati dal suo cattivo karma. Ma tranquillizzalo sul fatto che ora ha la possibilità di crearne uno migliore grazie alla tua guida. Se chi hai davanti mostra una componente caratteriale vittimistica e tende a non prendersi la responsabilità delle proprie azioni, rafforza la sua idea di essere una povera vittima dicendogli che percepisci intorno a lui delle forze oscure che soffocano la sua vitalità e lo ostacolano. Specifica che tali forze derivano da individui negativi oppure da certe entità che gli stanno addosso. scegli il tema in base a quello che si vuole sentir dire. Fai continue osservazioni che mettano il tuo interlocutore in una posizione di insicurezza o inferiorità o dipendenza da te. Frasi utili a tal scopo? Avverto la presenza di un'entità che vorrebbe parlarti, ma tu ti ostini a non ascoltare. Vedo che nella tua ultima incarnazione hai fatto un patto che si ripercuote in questa vita. Oppure, devi cambiare il tuo modo di essere o potrebbero esserci delle conseguenze. Oggi sembri più stanco del solito e in effetti c'è una strana ombra che penetra il tuo campo energetico vitale. Sicuro di sentirti bene? Se la chiave dell'inferiorità non aguanta, prova con quella della superiorità. Fai sentire la persona importante, unica, speciale. In te c'è qualcosa di diverso rispetto agli altri. Possibile che non lo avverti? Certi, io e te proveniamo dallo stesso pianeta astrale su cui abitavamo prima di incarnarci. È un onore per me ritrovarti in questa vita. Tu sei un essere speciale e io sono qui per aiutarti a riconoscerlo. Sezione difendersi da eventuali critiche. Allora, se qualcuno dovesse farti domande scomode, critiche o presentarti ragionamenti che mettono in discussione il tuo insegnamento, fai notare che il vero problema è che la sua personalità sta mettendo in atto delle resistenze e si oppone alla chiamata dell'anima. Quindi è un problema di personalità che si oppone all'anima. Se questo non dovesse placarlo, sottolinea che il disagio e il senso di opposizione che sta percependo è perché sta proiettando verso l'esterno una parte di sé che non ha accettato. Non sei tu a creargli un conflitto con le tue incoerenze, ma è lui che è in conflitto con se stesso e proietta tutto ciò su di te. Rassicuralo che se si impegnerà a migliorarsi, con il tempo comprenderà quanto il suo punto di vista fosse condizionato dall'ego e dalla paura. Il ragionamento precedente è valido anche nel caso ci siano persone che lamentino pochi progressi. Dopo aver seguito per mesi o anni il cammino da te indicato, puoi sempre sottolineare come sia colpa delle loro resistenze. Quindi l'unica soluzione è persistere e cercare di avere più fede. Sezione scegliere e gestire i seguaci. Nell'individuare i tuoi probabili seguaci, tieni conto che quelli più utili in genere appartengono a tre categorie. Coloro che hanno bisogno di un maestro da seguire e venerare. Coloro che hanno una certa disponibilità economica e coloro che hanno un bel décolleté o altri attributi che i tuoi ormoni ritengono interessanti. Il primo tipo di seguaci ti aiuta a ingigantire il tuo nome, quelli che hanno bisogno del guru. Quelli con il portafoglio ricolmo a ingigantire il tuo conto in banca e quelli con il décolleté a ingigantire qualcos'altro. Metti al centro dell'attenzione e fai sentire importanti e gratificati coloro che affermano di aver trovato il senso della vita e la felicità grazie ai tuoi insegnamenti. E invita tutta la comunità dei tuoi seguaci a festeggiarli. Inserisci le loro dichiarazioni anche alla voce testimonianze del sito internet. Mica penserai di poter fare il guru senza avere un sito su internet. Sezione argomenti più gettonati e strategie comunicative. Ricorda, i chakra sono come il prezzemolo, aggiunti ovunque e in una qualunque parte del discorso vanno sempre bene. In pratica, qualunque sia il problema di cui si parla, puoi sempre dire che è per colpa di un chakra bloccato. Se i problemi sono di carattere materiale o di eccessivo attaccamento a situazioni e persone, sceglierai come chakra bloccati uno fra il primo e il terzo. Per quanto concerne invece tematiche relative alla realizzazione di sé, al cammino spirituale, puoi optare dal quinto chakra fino al settimo. Il quarto chakra, che è quello di mezzo, è collegato all'energia del cuore e va tirato in ballo quando si parla di rapporti con gli altri, sia amorosi, sia amichevoli, o della capacità di amarsi in generale. Una frase che in genere ha molta presa è «hai il quarto chakra bloccato» significa che devi imparare ad amarti di più. A seconda del contesto, fai appello all'importanza di cogliere il momento presente, se per esempio devi convincere qualcuno a fare qualcosa per te nell'immediato. Oppure sottolinea l'importanza della pazienza e dell'impegno a lungo termine, se per esempio devi giustificare la mancanza di risultati. Amore e libertà Parla dell'amore in tutte le salse e salsine. Spiega come esso sia l'energia costituente dell'universo e come gli uomini ne abbiano frainteso la vera essenza. Sottolinea che l'amore vero cresce nella libertà, quindi benvengano le esperienze sessuali di ogni tipo perché bisogna onorare il piano materiale, ricordando però che non bisogna instaurare legami perché ogni legame uccide l'amore. Nel caso tu avessi una compagna o addirittura una moglie puoi dire «anche mia moglie è d'accordo che io frequenti» moglie o marito, chiaramente. «anche mia moglie è d'accordo che io frequenti altre persone perché ha capito che sono libero da ogni attaccamento e che le mie scelte sono espressione del grande amore universale che si incarna su questo pianeta attraverso di me». Punto successivo, che in sintesi sarebbe dire tutto e il contrario di tutto, ossia «mantieni le porte aperte a tutti i concetti e contemporaneamente ai loro opposti, in modo che chiunque, almeno in parte, possa sentirsi concorde con te». Se parli del valore della castità, spiega anche che la via tantrica è fondamentale. Se spingi al vegetarianesimo, aggiungi che bisogna mangiare carne per radicarsi. Se parli del fatto che il divino è dentro ciascuno di noi e non ha bisogno di intermediari, sottolinea che serve una guida per riconoscere i suoi messaggi. Se riporti gli insegnamenti di Buddha, Gurja e Fassagioli, Jung, aggiungi che i tempi moderni hanno bisogno di nuove rivelazioni. Agisci una continua e sistematica destrutturazione di qualunque punto di riferimento e dello spirito critico di chi ti ascolta. Se qualcuno ti fa notare che non sembri coerente, sottolinea che il suo ego e i suoi sensi limitati non gli permettono di vedere tutta la verità. Ultima sezione. Corso accelerato, chiaramente. Consolidare e ampliare il proprio nome. Inventa uno speciale metodo di guarigione, meditazione o trasformazione delle energie dandogli il tuo nome. Il metodo può essere una rivoluzionaria sintesi, che suona meglio di mescolanza casuale, delle tue ricerche in cristalloterapia, Kabbalah, Raja Yoga, Rebolzing, Shamanesimo, Tarocchi, Aromaterapia, Registri Akashic e quello che vuoi tu, a cui aggiungerai nuove informazioni da te, direttamente canalizzate dai regni spirituali. Ancora meglio se il metodo prevede una serie di iniziazioni e corsi per i quali sia richiesto un investimento crescente di denaro. Spiega che questo è il momento epocale giusto affinché tale metodo venga rivelato ai comuni mortali, mentre prima non sarebbe stato possibile. Pubblica su YouTube più video che puoi. Le persone ti considereranno importante in proporzione al numero di video che metti online. Più ne pubblichi e più verrai preso sul serio. Se hai particolari doti di comunicazione, abilità da mentalista o addirittura autentiche capacità medianiche, potresti essere molto avvantaggiato nella tua scalata al successo come guru. Diversamente non ti scoraggiare, ma inizia subito a cercare dei corsi per sviluppare le tue competenze in questi ambiti. Ovviamente, assicurati che si tratti di corsi tenuti da professionisti realmente competenti e non da pseudoguru come te o potresti ritrovarti a investire i tuoi soldi per niente. La gente ritiene che chi parla in modo persuadente o addirittura possiede capacità medianiche sia in qualche modo speciale. Sono ancora pochi gli individui consapevoli che le parole che vengono pronunciate non sono automaticamente rappresentative dell'integrità di una persona e che le capacità intuitive e medianiche possono essere sviluppate indipendentemente dal livello di coscienza posseduto. Quindi approfittane più che puoi. Il corso dell'erato finisce qui. Allora, la cosa assurda di questa che non c'è nulla di inventato, sono raccolte di testimonianze e vissuti in prima persona. Non c'è una cosa che io ho detto che ho letto adesso che è stata inventata. Chiaramente non è un libro non è solo il manuale come tale cioè per arrivare a questo punto del manuale ci sono prima 300 pagine per cui tu arrivi a leggere questa sezione del libro con una consapevolezza dove capisci che questa è una denuncia fatta non con rabbia di opposizione però con rabbia giusta perché ci sono anche persone sinceramente appassionati. Io ho il mio percorso spirituale io ho i miei maestri quindi non è un invito ad essere cinici non è un invito a dire che allora i chakra non esistono allora non esiste la sensitività il punto non è il cosa è il come è il contestualizzare allora noi come come umanità stiamo uscendo da un periodo epocale dove si dice dove le tradizioni esoteriche dicono che era predominante l'energia di sesto raggio che è un'energia di devozione idealismo e devozione questa energia portata al suo estremo ha prodotto gli estremismi religiosi e non è molto diverso quando noi ci ficchiamo con lo stesso atteggiamento oggi appresso anche a una nuova filosofia new age che poi non è per forza spirituale io vedo anche lo stesso atteggiamento in chi magari sposa in maniera assoluta una filosofia alimentare per esempio cioè ci sono persone che scelgono un'alimentazione e sembra che abbiano scelto una religione da come si comportano quindi la nuova epoca ci chiede di lasciare questo questo mettere al centro del nostro mondo il maestro di turno per metterci noi stessi in ogni caso per quanto possa essere autentico e ripeto ci sono ci sono maestri autentici insegnanti etici filosofie che vale davvero la pena esplorare e ricercare però è un faro è un punto di riferimento che ci dice prova a esplorare questa strada però nessuno può fare i nostri passi al nostro posto cioè l'unico vero guru quello che ti cambia veramente la vita è quello che hai dentro per qualcuno è l'anima per chi non sente l'anima può essere una voce intuitiva il buonsenso il cuore quella vocina che ti dice perché poi se l'ascolti c'è quella vocina qual è il tuo prossimo passo giusto da fare quello che tu sai essere giusto e quello lì cioè a me spiace dirlo può scendere anche il Cristo in persona il Cristo ci fa un esempio con il suo raggiungimento ci può dare un esempio di quello che è possibile diventare però nessuno può fare allora nessuno può fare perché c'è questa perché ci si prende la passione perché quella quell'alimentazione mi salva quel guru mi salva non ci si rende conto ma c'è proprio un po' l'atteggiamento del cercare il salvatore poi non parliamo di quando puoi avere bisogno per motivi di salute perché quando stai male puoi star male per motivi di salute ma puoi star male anche per motivi spirituali perché non ti riconosci nei valori che ci sono fuori cerchi quindi la tua casa la tua gente il tuo ambiente e il problema che rischi poi di cadere in una dipendenza o in chi sembra darti quello che tu stavi cercando cioè quindi è importante contestualizzare adesso abbiamo giocato e vi ho letto questa parte non vorrei davvero che venisse presa la rappresentazione del libro perché non mi piace neanche andare contro però una parte che io comunque ho messo perché personalmente mi scrivono in tanti sul mio blog personale raccontando testimonianze di situazioni di questo tipo cioè tu dici quante ne hai vissute io ne ho vissute comunque ognuno ha il suo percorso ne ho vissute però non era sufficiente da giustificare il fatto di mettere questa parte nel libro ma credimi che mi hanno scritto veramente in tantissimi che a causa a volte di insegnanti che se ne approfittano e si fanno chiamare maestri laddove maestri non sono e però sono molto intuitivi e colgono il punto di debolezza nell'altra persona rischi che poi tu cioè fai sentire questa persona delusa perché a un certo punto cosa dici ah il mondo spirituale non mi interessa è pieno di cose new age superficiale è solo un modo per spillarti i soldi perché senti parlare anche di questo e allora abbandoni questo mondo allora io con questo libro dico al lettore guarda io lo so che ci sono anche queste cose ma quello non è il mondo spirituale quello è il mondo dell'apparenza quindi dico lo so te lo dico ti faccio pure il manuale accelerato per diventare guru perché ti dico io so quello che stai passando quindi faccio una denuncia però poi ti invito a entrare seriamente sul percorso spirituale che non è un percorso che ti dà risposte cioè un percorso per coraggiosi perché i tuoi punti di riferimento vengono messi un po' in un ambiente terremotato perché a un certo punto il valore della società apparentemente perché poi dietro l'apparenza c'è sempre un senso più profondo però apparentemente non ti rispecchiano l'anima ancora il collegamento non è così forte è un'intuizione è un'aspirazione però non è che siamo proprio maestri quindi questo collegamento non è ancora così saldo e tu ti ritrovi perso in un deserto in mezzo a tantissima gente paradossalmente più solo che mai e invece bisogna bisogna insistere bisogna persistere seguire quella vocina e prendere per buono anche il risultato della propria esperienza ve vengano i libri ve vengano gli esempi i maestri io ho chiaramente le mie preferenze le mie passioni però anche laddove incontro degli insegnanti che poi capisco dai fatti perché poi sono i fatti che parlano al di là delle parole che non sono poi così coerenti però ogni tanto trovo comunque qualcosa di buono o un'idea allora dico va bene io mi prendo quella idea valida che posso sperimentare e mettere in pratica butto via l'acqua sporca ma non il bambino quindi questo è l'atteggiamento secondo me migliore non come atto di fede non perché bisogna cercare il salvatore ma prendendosi la responsabilità noi stessi di salvare noi quando quando non ti attacchi non idealizzi il guru va pure bene che lui sia incoerente e ti deluda perché se tu non l'hai messo su un piedistallo non può esserci questa delusione allora vi ringrazio per avermi ascoltato grazie 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 grazie